Sarà lunga circa un chilometro e per un tratto di 600 metri sarà doppio senso di marcia separata dalla carreggiata grazie a un cordolo. È il progetto della linea 6 della nuova ciclabile presentata oggi dal comune di Fano. La pista metterà anche in connessione quelle già esistenti, unendo il quartiere di Sant'Urso al centro storico e poi al lungomare. Una volta approvato il progetto partirà la gara, mentre nei mesi autunnali inizieranno i lavori. Sarà una ciclabile che intersecherà altre piste ciclabili già esistenti come per esempio l'interquartieri via Palazzi e quindi anche l'obiettivo di collegare i quartieri tra loro. È una ciclabile che quindi come abbiamo detto partirà da via Soncino, abbiamo recentemente inaugurato la ciclopedonale molto utilizzata soprattutto dai ragazzi che vanno a delle scuole medie che vengono verso il centro storico. L'obiettivo è proprio quello di mettere in sicurezza pedoni ciclisti e partiamo con degli interventi mirati, mettere in sicurezza gli attraversamenti. Quindi tutta la via che percorre via Papire e via Canal Albani verranno messe in sicurezza. Arrivati al Ponte Rosso, quindi via 4 Novembre, partirà questa ciclabile a doppio senso di marcia che percorrerà tutto il percorso fino a via Negusanti per arrivare poi in via Garibaldi. Questo è un passo molto importante perché nella nostra visione di città sostenibile aumentiamo la fruibilità dei ciclisti verso il centro storico. L'obiettivo, spiega l'assessore, è quello di aumentare i flussi ciclabili rendendo la nuova pista sicura e velocemente percorribile, così che chi si sposta in bici possa risparmiare tempo per arrivare in centro ma anche denaro. Il nostro impegno è proiettato verso una visione futura che grazie a questi tipi di intervento aumenteranno la qualità e il welfare della vita delle persone.